Ciao a tutti siamo qui allo Otsume Funday 5 direttamente a Lussemburgo in questa bellissima località, il casino a Mondorf, siamo in compagnia di Sebastien Agusche, License Manager, quindi iniziamo a fare una piccola chiacchierata con Sebastien. So Sebastien, è già il secondo giorno abbiamo già visto delle nuove licenze, nuovi prodotti, quindi una bella diciamo ricca Zume. So, what's coming next? What's coming next? A lot of turf, you saw that, I think the most surprising announcement, maybe, was the new line of products, the real life, the life size busts, especially because these are very big products, very ambitious products. Very big, very unique for you, because we are, you are Tzume like manga and anime, that's all. Exactly, and it's not from an anime license, but we announced we had a Predator movie license, and it's very exciting because it's the first time we are working on movie franchise. E' praticamente la prima licenza, il primo prodotto, la linea di prodotto nuova, è sicuramente quella dei busti Life Sites, come abbiamo visto quello di Predator, una novità che si discosta da quello che è veramente il fulcro di Zume, che è quello anime manga, quindi è una vera novità di lanciare questi busti in formato 1 a 1. So Predator will be the first, I suppose. Yeah, it won't be the only one, indeed. We are working on other licenses, which of course movie franchise. Quindi arriveranno altri gusti, altre licenze di film, e si entra in scala 1 a 1 per il momento, quindi vedremo come si volverà mercato. And also some non-movie licenses, some more known licenses, e anche qualcosa di non cinema, quindi. So you should expect some stuff that would be quite surprising, but in licenses you already know with us. Ok, quindi arriverà qualcosa altro. So to the fact that you are the licensing manager, I think that it is tough work, also to work with licensor, to get the license, to get the authorization, so it's really, it's not easy job, we can say, to get the license. Of course it's not an easy job to have the license, because you have to convince the licensor that you are a company trustworthy, that they should trust you with the license and you will not harm it, because the licensor, his role is to protect and nourish his license. Especially the job of people. Exactly. So they want licenses to nourish the license with great products that will make the license look even better. To respect the soul. Exactly. Quindi praticamente la difficoltà di parlare con i produttori, quindi con chi ha la licenza, ma soprattutto per esempio per le case giapponesi, quella di proporre un prodotto che rispetti, veramente che rispetti e rispecchi la licenza, l'anima del carattere, quindi non è soltanto vado lì, firmo il contratto, pago le royalties, quindi è molto difficile ottenere licenza perché c'è proprio una discussione che la licenza la vuoi, ma devi rispettare questi parametri, come abbiamo visto anche nelle altre interviste, quindi il processo. And then, I think even getting the license is difficult. I think the hardest part is that once the licensor agrees to give you a chance to prove yourself, you have to prove that you are worthy of this chance. You have to really meet the expectations. So the approval process è molto lungo, molto corretto, perché i prodotti japonesi sono molto protettive ma non lo che vuol dire è che i prodotti japonesi che già existono sono figure di merchandising quindi per loro sei un forerino? sì, e il livello è già alto, quindi se vuoi creare stati anche, quindi probabilmente, come dicevo prima, non è facile ottenere licenza, ma devi anche convincere quindi il licensor della tua qualità dei prodotti, perché magari questi prodotti qua, questa stessa licenza esistono già nel mercato giapponese di buona qualità, quindi la Tsume deve provare al licensor perché i prodotti che possono produrre praticamente rispecchierà le esigenze praticamente del licensor quindi, un'altra domanda è che è già due anni che hai venuto a Luca Comics, c'è un progetto di venire questo anno? quindi sto chiedendo se Tsume tornerà praticamente a Luca? beh, stiamo ancora discutendo l'interno, ma sì, è un progetto molto interessante è un progetto unico progetto è un progetto unico progetto, è un progetto unico progetto, è un progetto unico progetto perché la Luca Comics è unica al mondo, perché non è una fiera dentro, un building, come tutte le altre fiere quasi in tutto il mondo probabilmente, ma è la città stessa, quindi anche lo stesso Sebastian gli è piaciuto questo environment, quindi come si vuol dire? quindi, sì, sicuramente, sarebbe bello venire di venire quindi, stiamo ancora guardando il nostro schedule perché abbiamo un po' di stagione quindi la decisione non è ancora definita ma... è il plan di andare all'animex2? sì, stiamo parlando di andare all'animex2 esattamente negli U.S. e la Luca Comics, sicuramente, è una delle cose che vogliamo andare quindi, probabilmente, non è ancora definito sono in discussione andranno all'animex2 a Los Angeles ma sicuramente è una fiera che ci vogliono partecipare quindi vogliono tornare quindi sono ancora in quella fase di discussione quindi con l'organizzazione per tornare I like the fair because it's not just about the set up but clearly the reason is because I think that the audience is really... is a mix yeah, a mix and it's a bit more casual I mean, they are very friendly yeah, it's friendly no, no, no ok, ok quindi, veramente, dice Sebastien la... i visitatori i comics è molto casual, molto friendly molto amiche quindi è una fiera molto diversa e unica nel suo genere so, coming back to Summer Fun Day we have one more day other products that will be revealed soon yeah you're sure you cannot anticipate what is coming but we have a question from some collected telecollettor what about Okuto no Ken? yes what about it? it's coming... it's coming Kenshiro? it's coming? gli ho chiesto veramente di Okuto no Ken se arriverà Kenshiro lo stiamo aspettando tutti let's already have a day being released fully then we can discuss about Kenshiro ok, but for sure is the plan well, of course, of course we are considering it we can't... we are not going to do Jaggi of course if we do next... after Ray you can talk... it will become Kenshiro but Cyril being a very big creator he could come up with a... he could come up with a surprise and I would be like... ok... dipende anche da Cyril dalla mente geniale di Cyril di cosa può tirare fuori eccetera so maybe last question is how you see the market in general just because we saw a lot of new company coming a lot of new product so we feel also that price is increasing but price is increasing for a reason that the license is increasing cost material is increasing labor material is increasing so it's not only... it's a difficult, tough argument but how you see the market is because we feel that the market is starting to be full of product so I'm wondering how you see the market because we are seeing many new products many new products so how Zume will see the market next? for sure the market is full with products but I think the main problem is that it's not full with official products I think the main product... I think the problem is that there is a lot of bootlegs and it's very damageable for the market because product.com there is no quality check there is no... there are many bootlegs and there is no control check so there is no license but yes there are also many new manufacturers coming and well I think there are a lot of licenses that are not exploited yet by us or by others so I think it can be interesting if people try to make new products because this... there are new licenses that are still not explored ok thanks a lot Sebastian it was a pleasure ciao a tutti ragazzi stay tuned ciao ci vediamo a Luca e a mangiare italiano a mangiare italiano definitely